Ovviamente, da un punto di vista sportivo, nessuno batterebbe a Yuri che quindi vince il salto in luco, il triplo in alto da fermo. Quello sarebbe l'atleta dell'Olimpia. Ma la mia medaglia d'oro, nostra medaglia d'oro in particolare, va a Margaret Eve Abbott, che sarebbe un'americana di Chicago, la quale però stava studiando belle arti a Parigi, come facevano le americane bene all'epoca. Legge su un giornale che c'è questa gara di golf e lei dice ma io sono una golfista e quindi vado a giocare. Si presenta e si scrive perché lì di formalità ne facevano poca. L'importante era che lei non fosse una professionista, ma loro non lo potevano sapere. Gioca e gira nelle nove buche, all'epoca nove buche, in 47, sfolgorando. Margaret morirà nel 1955 senza sapere A. di aver vinto una medaglia d'oro perché nessuno gliel'ha mai detto che quelle erano Olimpiadi, B. di essere la prima campionessa americana, cioè la prima donna americana, a vincere una medaglia d'oro. Il segreto resterà per sempre con lei, ma lei non è dalla parte giusta del segreto. Mi sembra la più grande medaglia d'oro di queste Olimpiadi.